situazione drammatica del clima in tutto il nord è una situazione assolutamente incredibile quella che stiamo vivendo e il governo tace cioè non dice niente salvini che parla su tutto un governo che parla su tutto con milano che durante la notte ha avuto una situazione assurda quando andate sul web e vedete quello che sta succedendo a milano e in lombardia è una situazione veramente pazzesca cioè la stazione di garibaldi la stazione garibaldi di milano è addirittura diventata in alcune parti una specie di gardaland purtroppo drammatica nel senso con tutte acqua che scendeva dalle scale mobili tutto allagato stamattina tutto bloccato addirittura la la metro iniziava e faceva capolinea a a milano centrale io sono stato a milano ero a milano ho sentito veramente ho visto una situazione di disagio incredibile una città normalmente efficiente sapete che milano è quella forse tra le città quella che funziona meglio perché ha una rete di metropolitana che funziona è una città in ginocchio da un ubifraggio esagerato e ha soprattutto dalla continua esondazione del seveso poi non si capisce come mai il governo che tra l'altro vede tante espressioni del nord salvini è di milano è ministro delle infrastrutture ma è zitto non dice niente non si fa nulla per aiutare la principale città del nord italia ad avere dei sistemi di tutela visto che il clima è cambiato perché dovrebbero ammettere che non capiscono una mazza che c'è il cambiamento climatico e vedo anche dei deficienti che quando io dico che c'è il cambiamento climatico sono dei troll ignoranti negazionisti squilibrati che continuano a dire che no ma questa è un'esagerazione ma com'è possibile essere così deficienti ma io capisco che uno può avere ancora ed è discutibile il dubbio se il motivo sono i combustibili fossero ma quale imbecille può dire che non c'è il cambiamento climatico e che la situazione non è cambiata ma quale deficiente non capisce che stiamo di fronte a una situazione ma di tutti gli scienziati tutti i tecnici ma anche le persone normali non si rendono conto che le piogge estreme sono diventate molto frequenti e che le siccità prolungate stanno diventando frequenti ma com'è possibile non capirlo ed è ancora più grave che non lo capisca chi governa il ministro delle infrastrutture non pensa a fare delle infrastrutture perché il clima è cambiato in lombardia nella sua regione ma pensa ancora al ponte sullo stretto ma è mai possibile una cosa del genere oggi abbiamo visto milano un ubifragio ma quando era successo il tornado il ciclone pochi mesi fa con gli alberi sradicati e questo succede a memoria vostra dieci anni fa succedevano queste cose no succedeva ogni tanto quello che è il cambiamento quando si chiama di cambiamento stravolgimento climatico emergenza climatica come la volete chiamare e che i fenomeni che prima erano ogni tanto adesso sono fenomeni costanti allora che bisogna fare bisogna fare interventi possiamo cambiare il clima no possiamo evitare i morti sì possiamo evitare i danni sì ma questo fa un governo se no che caspita ci sta a fare un governo in un paese loro continuano a sparare fesserie ogni giorno oggi fratelli d'italia attacca conte perché ancora colpa di conte ma rispondessero è un anno che stanno al governo ma rispondessero delle cose che devono fare loro basta accusare quelli di prima ma che modo è tra l'altro prima di conte c'è stato draghi o no e perché avete paura di accusare il governo draghi eh eravate all'opposizione no com'è che la meloni che era all'opposizione del governo draghi e fratelli d'italia che erano facevano finta forse di stare all'opposizione del governo draghi accusano sempre conte e si dimenticano tutto il periodo in cui c'era il governo draghi o no e perché non accusano la lega ma la lega non stava nel governo draghi no e forse italia e la lega non stava nel primo governo conte allora fratelli d'italia non sapendo cosa fare attribuisce tutte le responsabilità guarda caso al conte 2 ma veramente ma veramente siamo a questo livello di come dire mancanza di dignità perché scusa come fa è possibile le persone pensiamo che i cittadini siano dei deficienti che non capiscono niente no no ah prima di parlare suate le scie chimiche ma noi abbiamo ancora persone ma basta basta ma di fronte a tutto questo disastro tutto questo disastro che c'è di cambiamento climatico in tutto il mondo c'è chi ci scrive delle scie chimiche ma veramente noi siamo di fronte alla pazzaria ma è chiaro o no che c'è stato un mega uragano che ha distrutto acapulco è chiaro o no che abbiamo delle siccità che nel nord Italia non ci sono mai state è chiaro o no che c'è stato il disastro in Emilia Romagna ma basta e abbiamo ancora persone che dicono che è la colpa di che delle scie chimiche ma veramente scherziamo ma veramente scherziamo poi è giusto indagare su tutto c'è qualcosa che inquina i nostri cittadini indaghiamo ma basta di fronte a cose che hanno che sono state indagate da tutti facciamo finta e facciamo i complottisti da quattro soldi qualunque cosa se ci fosse un vero complotto su qualcosa con tutti i media che abbiamo ci sarebbero abbondantemente notizie dappertutto quindi basta basta col complottismo da quattro soldi per favore vogliamo giustificare con questo un governo di destra che non fa niente addirittura la destra usa questo complottismo da quattro soldi perché poi i complotti esistono ma il complottismo è la banalizzazione dei complotti è chiaro il complotto con cui conte è stato fatto fuori per essere chiaro era un complotto orchestrato con renzi che ha fatto la sua parte palese a tutti è stato un complotto complottismo invece vedere complotti da tutte le parti per evitare di accusare quelli che hanno responsabilità di vera responsabilità cioè se oggi che noi siamo con il nord allagato con milano che la più grande città del nord italia della capitale economica di questo paese che non riesce ad affrontare un nubifraggio perché non sono state fatte opere di messa in sicurezza e di prevenzione e il ministro delle infrastrutture di milano ci sarà qualche responsabilità di chi non riesce a capire che c'è un cambiamento climatico in atto o no o è colpa delle scie chimiche no non è colpa del governo no è colpa delle scie chimiche e allora è colpa pure di babbo natale che è arrivato in anticipo e ha buttato un po d'acqua su milano ma finiamola per poi ma finiamola il dato reale invece serio è che l'anno scorso a novembre c'è stata vi ricordate la frana di ischia pioggia tremenda in una zona concentrata la frana e se il governo è andato là e ha detto noi ci impegneremo spenderemo tutti i soldi necessari contro il distresso idrogeologico faremo dei sistemi di allerta nuovi perfetto cosa è stato fatto in un anno ben ha lavorato il commissariato ischia perché a ischia hanno lavorato bene a casa miccia hanno lavorato bene hanno fatto dei sistemi nuovi per controllare dal dal dai satelliti tutte le frane in ogni minuto anche i movimenti di centimetri e quindi si può fare però hanno fatto ischia il governo nel resto d'Italia che ha fatto poi c'è stata la tragedia in emilia romagna altra bassarella altro impegno ci impegneremo faremo un lavoro importante eccetera poi quando si arriva alla legge di bilancio nella legge di bilancio non c'è una traccia del tema di sesso idrogeologico serio non le quattro parole scritte sempre dappertutto e del cambiamento climatico della crisi climatica ma perché non nominano un vero commissario vero alla crisi climatica con poteri reali che in faccia le casse di espansione perché quando i fiumi esondano quei fiumi vadano dentro come dire l'acqua finisca nelle aree vicine senza travolgere le città senza fare vittime perché guardate noi non possiamo evitare la crisi climatica possiamo evitare le vittime però e non mi sembra una cosa di poco conto possiamo ridurre i danni ed è una cosa importante questo è quello che io chiedo questo è quello che io chiedo e addirittura io direi io pretendo non chiedo pretendo capito e allora bisogna ragionare vista la mistificazione bravo io ragiono non so adesso perché si è sviluppato un dibattito immagino mentre io non riesco a guardare tutto ma quello che voglio dire basta basta con fandonie che servono a giustificare governi che non fanno nulla e non agiscono perché dire che non è vero che c'è una crisi climatica cosa serve a giustificare dei governi che non fanno una mazza o no ma è evidente che chi ha seguito le mie dirette o anche ha visto i post ma da quante settimane vi sto dicendo che ci sarebbe stato un autunno con piogge molto violente ma non perché io sono un mago ma perché tutti gli esperti meteorologi climatologi dicono che se il mare è caldissimo e assorbe molta energia questa energia quando viene rilasciata moltiplica i fenomeni climatici e li fa diventare fenomeni estremi questo è allora che si fa che si fa interveniamo sulle nuvi sulle nuvole facendo le scie chimiche o facendo qualche strana dievoleria o invece poiché si sa perfettamente quali sono i torrenti quali sono i fiumi quali noi conosciamo come si muove l'acqua quando ci sono fenomeni di questo tipo e tant'è vero che a milano ogni volta c'è un ubifaggio è che cosa è il seveso no allora è evidente che bisogna intervenire in quell'area su quel tema su quell'emergenza o lasciamo che la gente finisca sott'acqua c'è una stazione importante come la stazione caribaldi finisca sott'acqua certo non possiamo bloccare tutto ma possiamo fare in modo di sapere dove ci sono le emergenze e fare quegli interventi di infrastrutture vere caro salvini ministro delle infrastrutture che servono oggi non i ponti sullo stretto che servono a fare qualche affare rilevante a fare i soldi per gli affaristi e che sarà se anche ammesso che si faccia sarà il 2030 2040 e non risolverà certamente il problema dell'emergenza climatica e non si solverà certo il problema della siccità in sicilia in calabria e non risolverà il problema delle frane in sicilia in calabria qual è la priorità la priorità è fare un ponte in un'area che ha talmente poco traffico per cui le merci principali vanno su acqua e le cose principali cioè i trasporti vanno in gran parte in aereo e quindi facciamo un ponte buttiamo tutti questi soldi quando in calabria in sicilia abbiamo emergenze climatiche che vedrete purtroppo sono facilmente prevedibili perché perché la sicilia è in mezzo al mediterraneo adesso il problema lo stiamo avendo al nord italia e lo stiamo avendo perché la per le perturbazioni il cambiamento climatico sta portando e spingendo moltissima moltissime piogge in quell'area ma è evidente che anche la sicilia si trova esattamente in un'area ad altissimo rischio e che ha vissuto e vive sempre emergenze climatiche e lo vogliamo pensare a quello o vogliamo pensare a fare gli sboroni che pensiamo a progetti fantascientifici e nel frattempo facciamo anche come dire se non siamo attenti qualche regalo alla malavita organizzata e agli affaristi organizzati questo è sbaglio dico cose troppo dure no allora noi dobbiamo dire che abbiamo ancora un altro vagabò ma chi parla parlano a bambera gente inutile che parla a bambera gente inutile gente che non ha fatto mai una mazza siamo pieni oggi di trolle inutili mente catti mente catti che non capiscono niente gente che non studia non legge come qualcuno che mi dice affonso ma tu che fai cioè ma avete almeno letto le riforme dell'agricoltura del fotovoltaico e le cose fatte poi voi non condividerle perché vi piaceva più l'agricoltura in mano ai latifondisti ai ricchi e non ai giovani che potessero farsi i suoi turismi perfetto ma indiscutibile nei poveri deficienti è indiscutibile che le riforme quando si fanno bene portano beneficio ad alcuni e magari sono osteggiate da altri perfetto io sono dalla parte dei giovani e contro quelli che vivono di renditi di posizione cercando di evitare che i giovani possano mettere nuove attività è una posizione magari quelli che vivono di renditi posizione non sono d'accordo perfetto quelli che vivono di combustibili fossero non sono d'accordo perché ho dato risorse pubbliche pubbliche che erano state date agli inceneritori ai petrolieri e le ho date alle rinnovabili va bene a qualcuno piace a qualcuno no e ci sono anche quelli che hanno inventato fake news come le rinnovabili sono pericolose fanno male cose quante puttanate vengono inventate per cercare di bloccare il cambiamento tante ma noi andremo avanti lo stesso e la transizione ecologica e digitale si dovrà fare per forza perché altrimenti rischiamo il disastro come specie umane chiaro e quindi adesso ogni tanto riesco anche un popolo lobotomizzato non lo so se il popolo è lobotomizzato a volte capisce a volte no ma una parte del popolo ma non una parte del popolo una parte di deficienti che però a volte che succede sui social chi ci sta ci sta gente che vuole imparare che vuole capire eccetera poi ci sono anche tanta gente che non ha un cazzo da fare non capisce niente e spara cazzate questi ci stanno ma non è che stanno solo sui social quelli stavano anche avanti al bar del piccolo comune dove avevi cinque persone che erano magari persone che parlavano male di tutti che non capivano una mazza e usavano il tempo nel sparare cazzate e inventare come dire maldicente ci stavano adesso il problema è che cosa succede che i social hanno amplificato questo fenomeno quindi tu non vedi solo quei quattro cinque scombinati avanti a un bar che parlano a bambera ma il parlare a bambera è molto diffuso speriamo e dobbiamo lavorare perché i social siano utilizzati anche invece perché è uno strumento tu puoi usare un coltello per tagliare una verdura una pizza e poi usare un coltello per ammazzare una persona non è colpa del coltello è colpa di come viene utilizzato il coltello allora i social hanno delle caratteristiche a volte perché come dire aiutano e fanno vedere più le cose cattive che le cose buone il meccanismo della bestia di salvini che faceva salvini per avere più follower sparava delle cose sempre più grandi che la gente lo rimbiva di insulti eccetera e questo faceva aumentare è un uso perverso di uno strumento che invece può servire anche per spiegare le cose quando io vi spiego cos'è il cambiamento climatico perché si chiama crisi climatico ve la spiego perché l'ho imparato prima io cerco di approfondire e cerco di spiegarvi che la crisi climatica in atto quelli che vi parlano di semplice maltempo usano una frase sbagliata che sottovaluta l'emergenza e noi possiamo ridurre i danni se facciamo una serie di opere allora il fiume aumenta l'acqua c'è tantissima acqua il fiume esonda se il fiume esonda significa che strarippa se abbiamo fatto dei sistemi di protezione della riva se abbiamo fatto abbiamo fatto attorno a questo fiume delle casse che si chiamano di espansione che si fanno a monte cioè quando il fiume inizia a ingrossarsi questo fiume esce e riempie queste aree e non travolge le città che stanno a valle questo è avete capito di che si tratta ed è una cosa che deve fare il ministero delle infrastrutture che devono fare le regioni chiaro e dopo la crisi di ischia e dopo la crisi dell'emilia romagna il governo aveva promesso che se ne sarebbe occupato se ne è occupato no questo è dato non se ne è occupato chiaro ecco allora noi diciamo che il governo deve farlo punto perché il buon governo serve a questo questo non sarà un buon governo ma sia almeno un minimo di decenza rispetto alle persone che rischiano la vita punto di questo stiamo parlando procediamo in questa direzione facciamo le cose in modo serio l'altra cosa che vi ho detto oggi è cosa pensate è quasi questo caso è una domanda si dice retorica conosco in gran parte le vostre risposte la meloni invece di dire che cosa vuole fare il governo continua ad attaccare conte adesso attaccato conte il pd attaccare sempre il governo conte 2 che però è caduto da anni nel frattempo c'è stato il governo draghi ma com'è che la meloni non attacca il governo draghi che problema c'ha eppure era l'opposizione ma i suoi amichetti salvini e forza italia erano al governo con draghi giusto allora lei per non attaccare loro attacca solo conte solo un governo c'è stato e lo attacca sulle cose giuste sulle cose giuste sull'iniziativa fatta fuori dei poveri per cercare di ristrutturare le case eccetera assurdo e intanto non ci spiega perché questo governo ha aumentato le tasse ha detto addirittura che l'agenzia delle entrate poteva entrare direttamente nei conti dei cittadini cosa che la destra ha sempre detto addirittura che loro non avrebbero consentito di mettere le mani nelle tasche degli italiani complimenti non ha dato un euro alle imprese per fare cose nuove ha tolto il reddito cittadinanza ai poveri ha tolto il super bonus e non è che l'ha sostituito con cose innovative per cercare di rendere il patrimonio di lizio migliore e di far spendere meno ai cittadini in bolletta la benzina è arrivata a cifre mai raggiunte prima e non hanno tolto nulla sulle accisi hanno addirittura aumentato l'iva sui pannolini e cioè una cosa come dire esagerata dice ma quanto può valere quest'iva sui pannolini ma togliessero qualche soldo alle spese militari togliessero i soldi ridicoli buttati sul ponte sullo stretto e investissero sulla scuola sulla sanità sull'aiuto alle persone più in difficoltà ma veramente scherziamo cioè e invece di parlare di questo attaccano a conte dicendo che è colpa di conte ma mi sembra come dire onestamente ridicolo ridicolo infatti la gente pian piano inizia a capire non ci crede ma giustamente non ci crede allora io vi saluto perché insomma ovviamente fate una buona serata di halloween che la vuole festeggiare non è proprio una nostra tradizione però è diventato una festa per i bambini anche per le persone grandi io oggi vi ho fatto vedere pure le famose zucche di campagna mica della col diretti perché la vendita delle zucche ha aiutato comunque i nostri agricoltori e quindi questa cosa non può che farci piacere però il dato vero invece serio e che ci aspettano ancora dieci giorni di problemi di crisi climatica importante bisogna migliorare i sistemi di allarme io continuo a dire a voi e spero che quando faccio dei post li condividiate quando diciamo che ci dobbiamo far capire alle persone quando c'è un allarme devono stare a casa non devono muoversi con la macchina perché purtroppo ci possono essere situazioni con le piogge estreme che noi non conoscevamo in passato e che quindi a volte sottovalutiamo allora noi dobbiamo fare in modo che almeno cerchiamo di evitare i come dire i lutti cerchiamo di limitare i danni e questo lo si fa con un'opera di prevenzione quindi io vi auguro una buona serata di halloween o semplicemente rilassante come volete voi e soprattutto un appello sempre quello di essere attenti ai grandi temi dell'ambiente della pace dei diritti perché c'è un'umanità che cerca di lavorare in modo altruistico per queste cose purtroppo c'è un altro pezzo di umanità che si fa solo i fatti suoi che è egoista che chiusa che è gretta che sa solo insultare che non è capace non dico di amore ma nemmeno di atteggiamenti positivi sulla vita allora noi dobbiamo come dire riempire di cose positive le cose che facciamo arrabbiati quando abbiamo essere arrabbiati perché non significa che bisogna essere sempre buoni ma nello stesso tempo capaci di valorizzare le cose buone che vengono fatte quindi buona serata aderite al al gruppo su qui su facebook eco digital verso il 2050 che vuol dire cerchiamo di migliorare salvare il nostro pianeta e facciamolo usando al meglio il digitale che esattamente lo strumento che stiamo utilizzando in questo momento che cosa parlare tra noi in questo modo con questa diretta eccetera che cosa è un uso del digitale che uno strumento noi cerchiamo di farlo cercando di diffondere elementi noi pensiamo di buon senso ma sicuramente non insultando criticando quelli che dicono cose sbagliate ma cercando di motivare perché l'altra cosa importante non abdichiamo alla nostra intelligenza e al fatto che le cose che diciamo devono avere una logica devono avere una motivazione devono avere devono seguire dei criteri ecco io spero e cerco lo faccio con i miei studenti ero fatto bellissimi incontri con studenti dell'università degli studi di milano bicocca perché insegno l'arma è da 14 anni insegno turismo sostenibile hanno presentato degli itinerari molto belli di turismo sostenibile di ecoturismo in molte zone delle alpi perché quest'anno il tema che gli avevo dato è quello dell'arco alpino ed è la dimostrazione che poi ci sono tante cose positive hanno l'hanno fatto usando delle storie usando dei canali innovativi di comunicazione ecco si possono fare cose belle e io questo anche vi vi diffondo cioè quando posso oltre a darvi il buongiorno buonasera perché c'è Anselmo Pellizzi il coordinatore del giovane eco digital che dice che bisogna non solo scrivere cose politiche ma dobbiamo anche creare tra virgolette un rapporto di comunità nei limiti tra le persone che hanno delle idee comuni che sono le idee di lavorare per l'ambiente per i diritti per l'innovazione per la transizione ecologica e digitale quindi iscrivetevi al gruppo così Anselmo può avvisarvi delle iniziative che facciamo questo vale pure per il gruppo che ha fatto sempre lui amici di Alfonso Pecoraro Scania e cerchiamo di fare in modo che questo rapporto non solo voi ascoltiate ma possiate essere attivisti fare poche cose qualche cosa che possa essere positiva dal punto di vista della diffusione di messaggi che io ritengo giusto e che quelli che lo condividete cioè è quello che una volta avremmo fatto diciamo in un'associazione oggi lo si può fare anche usando i social e io vi darò e spero di riuscire a dare degli strumenti poter essere anche quando non vi potete muovere perché avete cose da fare non riuscite a contattare essere protagonisti e attivisti cittadini non che guardano solo questo cosa succede ma che in qualche modo cercano di influenzare io dico in positivo ovviamente quello che è il nostro futuro ecco io vi saluto e vi auguro veramente con affetto una buona serata ciao cari grazie a tutti